Ciao ragazzi, siete alla ricerca di carte e videogiochi vintage non? Allora il video J's Shop è quello che fa per voi. Negozio ubicato a Pesaro, in via Gian Battista Passeri al 54. Al suo interno troverete una vasta gamma di carte collezionabili, dalle ultime espansioni al vintage da collezione. Potete trovare anche videogiochi di nuova generazione e per gli appassionati del videoludico vintage un mondo da riscoprire. È disponibile tra l'altro il servizio di spedizione per tutta Italia. Allora cosa aspetti? Vai subito a farci un salto. Trovi il link in descrizione. Ciao ragazzi, io sono Nick. Ciao, io sono Ila. Bentornati sul nostro canale. Oggi finalmente, dopo aver superato i 2000 iscritti, facciamo questo benedetto speciale 2K. Infatti oggi ragazzi faremo qualcosa di molto speciale. Infatti andremo ad indire un giveaway, più una sbustata molto carina, ma avete già capito tutto, dalla copertina. Infatti oggi andremo a sbustare questo bellissimo e ormai rarissimo ETB di Burning Shadow. Scusa, mi ho coperto la tua faccia. Lo coprono anche la mia, guarda, ecco. Da cosa mi hai capito? Che rinfuriato, vi sono la faccia. Ma mi conosce. Come saprete in tantissimi, in queste postine è possibile trovare lo Zardone Hyper. Speriamo di farcelo uscire. Il giveaway ragazzi invece in cosa consiste? Sarà un giveaway veramente molto, molto caldo ragazzi. Infatti questo giveaway sarà su questa bellissima carta ragazzi. Vediamo se mi fa lo zoom. Ecco. Su questo bellissimo Mega Charizard ragazzi, in italiano. Logicamente questa carta ragazzi vale qualche soldino. Infatti il suo valore adesso si aggira fra i 70, 80, 90, 100 euro. Quindi è un giveaway veramente molto speciale. Per potervi partecipare bisogna seguire alcune semplici regole. Che adesso andremo a spiegarvi. Allora ragazzi innanzitutto dovete mettere mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e mettete like alla pagina Instagram in modo tale da seguirci. Quindi seguiteci sia su YouTube e su Instagram. Come secondo punto ragazzi sarà necessario condividere questo video sulla propria baccheca Facebook o su una propria storia di Instagram. Una delle due. Logicamente taggandoci. Dovrete commentare questo video con scritto Niklida giveaway 2k e portare un amico taggandolo sotto nel commento. Dopo aver rispettato questi tre semplici punti, anche se sono un po' lunghi ragazzi, però per questa carta ne vale la pena. Nel vostro commento noi inseriremo un numero e in una live che faremo non so quando, adesso devo ancora programmarla, verrà estratto il numero fortunato tramite una ruota della fortuna. Quelle banali che ci sono su internet. Quindi in live andremo ad estrarre il vincitore. Questa live non ho ancora deciso quando farla, però vi informerò al più presto possibile su Instagram. Visto che dovete seguirmi per partecipare. Quindi ragazzi, occhio, state attenti alle stories o ai post perché vi verrà comunicato quando verrà l'estrazione. Comunque ragazzi, detto ciò possiamo pure partire con lo sbustamento, ma prima di iniziare ragazzi, vi ringraziamo per tutte le iscrizioni e per il supporto in questo ultimo periodo. Grazie mille, veramente. E ragazzi, buon anno perché questo video probabilmente sarà il primo che uscirà nel nuovo anno nuovo. Esatto. Allora ragazzi, l'ETB è praticamente difficilissimo da vedere qui sotto. Allora, quante bustine ci sono in questo ETB? 10? Non lo so. 10, probabile, sì. No, in realtà ci sono 8 bustine ragazzi. Ah, pensavo 10, vabbè, fa niente. Ok ragazzi, via la plastica. È veramente troppo grosso, non ci sta qua sotto. Vabbè, comunque. Non riesco a lanciarlo. Apri pure tutto. Sì. E che bello. Wow. Guarda com'è fatto, è diverso da quell'italiano. Allora, abbiamo, prima di aprire l'ETB, aspetta, scusami, abbiamo il giornalino, quello per informarvi dell'espansione. Lo apriamo un attimino, giusto per vedere cosa c'è. Ma che bello, Minecraft da Lola. E poi andiamo a vedere ciò che ci interessa davvero, ragazzi. Dove cazzo? Ecco, il Charizard maledetto. Eccolo qui, bellissimo. Tu, tu devi uscire, cazzo. Apri pure. Ma sono tutti stralaccati i pacchetti. Ma che cazzo è successo? Ma sono così? Ma che cavolo? Sono stralaccati di brutto. Ma sembra tipo aperto, anche se non penso. Però guardate che casino. Ma come cazzo li fanno gli tb in inglese? Ma sono marci. Io sono... Sono esterrefatto, ragazzi. C'è un macello incredibile dentro a sto tb. Via. Poi abbiamo le otto bustine. Buttate dentro, ovviamente, alla cazzo in culo. Ok. Poi abbiamo, ragazzi, dadi e segnalini. Di cui ce ne sbatte una sega. Sleeves. Queste sono molto carine, belle. Mi piacciono. E un pacco gigante di energie. Queste veramente... Ci puliamo il bocco del culo. Ok, perfetto. Allora, abbiamo otto bei pacchettini, ragazzi. Otto bei pacchettini. Adesso Ila li divide. Ok. Perfetto, ragazzi. Parto io? Ho paura, ragazzi, su un'unica cosa. È che col casino che hanno fatto, magari, si possono essere da meggiate le carte all'interno. Spero di no, eh. Spero di no, assolutamente. Però non me l'aspettavo fossero così i tipi in inglese. Dio mio, guarda questo codice, come è messo. È veramente bianco, ragazzi. Niente, anche se dovessimo trovare Charizard, non è più un mint. Vabbè, ci proviamo allo stesso. Mamma mia. Allora, abbiamo Energia, Tuono Solrock Però è perfetto a vederle, insomma, è un po' che non sbustavo questa espansione. Lumeria Simipur Grimer di Alola Rals Vulpix di Alola Otut Calico Ladyba Simisir E Shainotic Beh, orrendibile. Allora, facciamo una testa, va, così sbustiamo un po' in contemporanea. Questi li lasciamo qua da te. Andiamo con quello di O-O. Spettacolo, ragazzi. Questo O, molto molto bello. Anche O sarebbe molto bello trovare in queste espansioni qua, eh, perché è molto carino. Allora, via il pacchettino, via il codice, facciamo un altro trick da quattro, dovrebbe essere da quattro sempre, solo il luna. Abbiamo Energia, Oscurità, Solrock, Wistful Button, credo. Mount Lanakila. Non puoi dirlo in italiano. No, Venipede. Sandy Guest. More Lulle. Da tanto cominciamo More Lulle. Croubleram. Staff Hour. Bruttissimo. Croubleram. Questo qui lo odiamo, ragazzi. Abbiamo... Un Butterfree normale. Ma che carino. Vai con il prossimo pacchetto, via. Il prossimo pacchetto è di... Necrozma. Quella assassina. Un escrozza. Cos'è un escrozza? Ma qui i codici corrispondono alle cose che ci sono dentro. Ah, è vero, sì, hai ragione. Sono verdi, quindi sono merda. Me l'ho dimenticato. Praticamente abbiamo trovato merda fino adesso. Sì. Ma questo è il terzo pacchetto, dai. Possiamo ancora attivarci. Sono otto, eh, cioè, non è che... Vabbè. Positivi, positivi. Allora, Energia Lotta. Porygon 2. Pornigon 2. Weakness Policy. Che bello. Sì, è vero. Mi piace? Lo strappo adesso. Simi Sage. Così, a caso. Sandy Guest. Rhyorn. Meryl. Che schifo. Non è che schifo, quelli fatti in pezza. Caterpie. Morelul. Dai, dillo. Morelul. Ecco. Noibat Hollow Reverse e... Tanto lo sappiamo già anche, c'è una cagata. Però è brutto se poter essere utile. Adesso cerco di non guardarlo, il codice. Eh, o lo giri normale, o lo giri verde. Eh, lo giro fuori dalla videocamera. Allora, passiamo al prossimo pacchetto sempre di Necrozma. Vediamo un po'. Allora, facciamo così. Poi, facciamo così. Facciamo così. Così ne sono viti. Ok. Trick e torso da quattro. Perfetto. Le giriamo. E abbiamo energia Follettino. Wobbuffet. Electric. Guzma. Pampur. Alolan Rattata. Mudbray. Magikarp. Panseer. Togedemaru. Che schifo di Pokémon. Allora, pass... Eh, un bel persian, ragazzi. Questo ITB promette un bel po' di merda. Penultimo pacchetto, ragazzi, per me. Ovvero quello di... No, ragazzi, apre questo. No. Apre quello di... Tapu... Lele? No. Tapufini? Tapufini. Tapu... Pochi possono capire questa sigla di Pokémon Sole e Luna. C'è qualcosa. Non ho visto, ragazzi. Ti sei spoilerata qualcosa. Era inevitabile guardarlo a me. Allora, energia... Acqua. Raidon. Electric. Questo fa veramente cagare. Ma io non lo trovo così brutto. È appunto... Un cazzo di dirigibile nano. Buffalant. Bulbix di Alola. Miau. Riolu. Brottino. Grimer di Alola. Ladyba. Kingdra. Allora Versa. Questo è carino. Questa era una carta rara. Vai libro monografico? Seriously? Forse è una mezza gioia. Mezza, mezza. Passiamo al prossimo pacchetto. Ovvero, sempre di Necrozma. Vediamo un po'. E un po' di schiera. Passiamo il Durgare. Dico almeno adesso Charizard. Però almeno... Una GX qualcosa. Non so io. Allora, cerchiamo di non spoilerarci niente. Non sono spoilerato. Bravo, Nicolas. Ok. Drick da quattro. Giriamo e abbiamo energia. Psycol. Simipur. Noctowl. Electrabuzz. Espur. Pansage. Meril. Cermander. Oddish. Mount. Lanakila. E un bellissimo crano... Cramo-minable. Normale. Schifoso. Cramo-minable. Come cazzo si chiama? Cramo-minable. Come si chiama quella mezza? Insomma. Non c'è bisogno di irritarsi. Vai col tuo ultimo pacchetto. Per Dio. Cerchiamo di non spoilerarci niente. Non guardare! Mi servono i codici. Per Dio. Ma niente. Lo prendiamo dopo. Lo avranno visto loro in... In stop motion. Energia buio. Che è diventata verde. Hai notato? Vabbè. Acerola. Dusclops. Simisir. Cutiefly. Rionu. Raiorn. Tangela. Dupider. Dianzi. Hollow Reverse. Che bello è questa. Perché non mi piace. Raiciolo. Ma non poteva stare chiuso sto ITB. Dio ragazzi ma veramente. Adesso denuncio la Pokémon Company. Va bene. Finiamo in mutande. Andiamo con l'ultimo pacchetto ragazzi. L'ultimo. Cioè. Non uscita neanche una GX. Capito? È una cosa veramente... Doveva essere illegale vendere ITB così. Allora. Trick da quattro. Le giriamo ragazzi. Speriamo nell'ultimo pacchetto. Per Dio. Abbiamo l'energia metallo. Ehm. Acerola. Come cazzo si dice. Gloom. Seavipers. Espor. Bruttissimo sto Pokémon. Pansage. Merill. Charmander. Oddish. Super Scoop Up. E... Tangro. Non ci credo ragazzi. Questo ITB è stato un fallimento totale. Una merda ragazzi. Cioè. Che schifo è trovare due orografiche così. Queste le uso per pulirmi il buco del culo. Va bene? La speciale si conclude qua. Vi ricordo. Che le regole le trovate in inizio del video. Perché non me le ricordo più. Come al solito ragazzi. Prima di finire ogni video. Vi invito ad iscrivervi al canale. A lasciarmi un piace a questo video. Il link ve le lascia sotto in descrizione. Le regole. Così le potete vedere senza dover riguardare il video otto volte. Logicamente ragazzi. Passate anche dal nostro amico. BluJs. Link in descrizione. Passate anche dai nostri amici di Pokemon Stations. Sempre. Link in descrizione. E noi. Ci vediamo alla destrazione. E al prossimo video. Ciao. Ciao.